Buongiorno signori, vi devo far vedere cose di tutti i giorni, semplicissime banane, anzi, le macchie di queste banane. Lo sapete che ogni giorno queste macchie vengono prodotte da maltrattamenti e sopprusi? Voi siete contro questi maltrattamenti? Allora, dite basta! Mandate un sms a 4088, un euro da cellulare e due euro da telefonofisso, solo per far scorrere felici queste banane di nuovo come una volta. Grazie, arrivederci!